Lei una volta ha detto una cosa che mi ha stupito, che in Italia siamo matti che in Italia siamo matti perché parliamo tutto il giorno e tutti i giorni di calcio mentre negli altri paesi non è così. Qui siamo in una città in cui ci sono almeno 5 radio che parlano tutto il giorno della Roma. Prego. Vi riprendo, grazie innanzitutto. Grazie.